58 imprese già in cassa integrazione per 196 dipendenti erano 153 nel 2011 e 107 nel 2010. Inizia con il 22% di cassa integrati in più il 2013 del comparto artigianato. Una partenza shock che non sembra dare in questo avvio di anno segnali incoraggianti di ripresa almeno nell'immediato periodo. A confermare che la tendenza non si è invertita e ci sarà ancora purtroppo molto da soffrire è la CNA che ha avuto in questi primi 10 giorni dell'anno una vera e propria esplosione di richieste di attivazione della cassa integrazione in deroga. A soffrire di più è il settore della metalmeccanica, dei servizi alle imprese, alle persone e la nautica, andando più nello specifico carrozzerie, calzaturiero, trasporto, lapidio e legno. A stare meglio e a vedere il futuro con più ottimismo sono invece quelle imprese che hanno costruito un percorso di internazionalizzazione e si trovano a loro agio a parlare di export. Ad esprimere la sua preoccupazione sul declino di questi settori, che rappresentano un volano dell'economia locale, a causa anche di una burocrazia troppo lenta e costosa, di una pressione fiscale che soffoca le imprese e di banche che fanno una fredda selezione di chi aiutare e chi no, è il presidente provinciale CNA, Ugo Daprato, che afferma Se non saranno messi in atto da parte del nuovo governo provvedimenti adeguati per rilanciare le nostre imprese che si stanno consumando dall'interno, con gli imprenditori che stanno reinvestendo tutto il loro patrimonio personale, nel tentativo di superare questa fase che ormai dura da quasi tre anni, alla fine dell'anno ci conteremo.